La Turris si aggiudica il sentitissimo derby battendo la Juve Stabia per 2 a 1. I Corallini partono con tratti poco equilibrati, questo consente alla Juve Stabia di prendere il palino del gioco e sfiorare il vantaggio in un paio di occasioni mentre la Turris risponde con folate improvvise. Nella ripresa la squadra di Caneo parte con maggiore fluidità e con un piglio diverso, al quinto Finati pesca Giannone in una sovrapposizione interna in area di rigore che con un tiro di destro offredda il portiere Stabiese Sarri ed è 1 a 0. La Turris sulle ali dell'entusiasmo preme, la Juve Stabia è costretta a difendersi affannosamente e questa pressione dà i suoi frutti grazie al neoentrato Loreto, al posto di Santaniello, che serve Giannone al limite dell'area che con un potente sinistro fulmina l'estremo difensore ed è 2 a 0. Tifosi in delirio per il doppio vantaggio, la Turris sembra in totale controllo ma gli ospiti al 68esimo la riaprono grazie ad un gol del centravante Eusepi, abile a depositare in rete un tiro non irresistibile di Panico. Gli ospiti spingono nel tentativo di riprendere la gara e all'ottantesimo Panico con una punizione dal limite impegna non poco il portiere Corallino Perina. Nei minuti finali esce il match winner Giannone con una standing ovation del pubblico Corallino che al fischio finale esplode di gioia.